ok allora ci siamo siamo live per questo ultimo appuntamento del pre estivo della sidonline con me oggi c'è francesco molfese ciao francesco ciao silvio ciao a tutti i ragazzi ciao tra poco mi mostrerò anch'io in tutto il mio splendore accendendo la webcam francesco con te parliamo oggi di un tema che abbiamo trattato tante volte durante l'anno tra i 20 sid per i teams e quant'altro ne abbiamo fatte di ogni che è azure bmware solution questa tecnologia che microsoft ha introdotto già da tanti anni serve per utilizzare ambienti bmware all'interno dell'infrastruttura azure ce ne parlerai tra pochissimo tu ricordiamo che come al solito per chi vuole fare le domande abbiamo la console della chat e il qna quello che serve fra ci fai un pochettino una panoramica partendo dal punto numero uno cosa è successo ormai a novembre con l'acquisizione di broadcom di bmware da parte di broadcom sì assolutamente allora diciamo che come tutto nel novembre del 2023 c'è stato un evento importante che ha scosso un po il mondo del dell'infrastruttura it di fatto c'è stata l'acquisizione di bmware da parte di broadcom è stato un accordo che viene definito noto come bmware by broadcom che di fatto ha immediatamente sollevato un po tutta una serie di interrogativi e quello che stiamo vivendo oggi chiaramente sono una serie di scelte da parte di broadcom che chiaramente influenzano anche come i clienti possono poi effettivamente utilizzare bmware all'interno della propria infrastruttura ci sono state già delle scelte molto importanti che abbiamo visto anche confrontandoci direttamente con i clienti che hanno avuto un impatto significativo il primo fra tutti è un modello di licensing diverso c'è stata una transizione delle licenze perpetue alle sottoscrizioni e questo nuovo modello di costo ha iniziato a sollevare un po di preoccupazioni sui costi da parte dei clienti poi c'è un altro aspetto importante che post acquisizione è stata fondamentalmente ridotta la varietà delle versioni disponibili da parte di bmware questo che cosa comporta che di fatto i clienti devono per forza optare per soluzioni più costose in alcuni casi che hanno funzionalità magari spesso non necessarie per la loro realtà chiaramente questa limitazione che cosa complica cosa implica implica un aumento dei costi riduce la flessibilità e magari un cliente stretto portarsi a casa delle funzionalità ma che non sono strettamente necessarie per la propria infrastruttura c'è anche un altro tema importante che anche parlando con i clienti emerge spesso che la storia di broadcom nell'ottimizzare chiamiamolo così il portafoglio dei prodotti attraverso l'eliminazione di offerte meno redditizie ha creato un po di timore anche dal punto di vista della possibile discontinuità di determinati prodotti di bmware ed effettivamente abbiamo visto in alcuni casi che alcuni prodotti sono stati un po accantonati chiaramente l'eliminazione di questi prodotti aumenta poi di conseguenza anche un po il rischio di lock in da parte di broadcom quindi abbiamo una scelta più ridotta di per quanto riguarda i clienti e potenzialmente come abbiamo visto un aumento dei costi altro tema caldo per quanto riguarda i clienti è che sappiamo che broadcom storicamente focalizzata un po nell'andare a ottimizzare i costi e quindi anche nell'andare a limitare quelli che sono gli investimenti dal punto di vista della ricerca e sviluppo quindi questo magari può diciamo così porre degli interrogativi sul cliente rispetto a quella che può essere l'effettiva innovazione futura per quanto riguarda bmware quindi questo ha dato un po una scossa al mercato nell'ambito delle infrastrutture ti soprattutto per chi utilizza attualmente bmware e non so silvio anche quello che hai visto tu però tanti clienti per la prima volta in un nonostante continua essere una soluzione molto solita affidabile che sul mercato e diversi anni però hanno iniziato un po a guardarsi intorno e in questo contesto diciamo che microsoft può emergere un po come un attore chiave fondamentalmente perché ci mette a disposizione diverse alternative che promettono diciamo così di andare a ridurre un po questi rischi che abbiamo appena visto e magari anche di mettere sul tavolo una serie di soluzioni interessanti per modernizzare la propria infrastruttura quali sono tra l'altro su questa cosa qui ricerca e sviluppo basta nominare simante che ci ha che non come dire post acquisizione poi ne parlavo un po di tempo fa con una persona e sai la frase è stata se guardi poi i numeri del mercato del valore delle azioni e tutto c'ha ragione Broadcom e hai detto sì c'ha anche ragione però ok che sta diventando tutto centrato sul mercato sul valore di mercato e non più su quello che implementi però che cosa stai dando agli utenti stai togliendo sempre di più quindi il prodotto come hai detto tu rimane stabile però banalmente hai tolto l'SX Free che era forse il piede di porco per qualsiasi azienda che volessi attuare la virtualizzazione sì esatto poi secondo me un altro aspetto importante va contestualizzato tutto questo all'interno del mercato italiano cioè è evidente come bmware fondamentalmente o meglio Broadcom in questo caso si stia focalizzando più sui clienti di fascia enterprise e sappiamo che in realtà l'azienda media italiana la realtà italiana media è composta non da realtà enterprise ma ci sono tante realtà magari più piccole da questo punto di vista che hanno bisogno comunque di soluzioni affidabili per la propria infrastruttura e di conseguenza chiaramente probabilmente è vero questa affermazione che hanno fatto perché anch'io guardavo i numeri effettivamente è una strategia ben specifica e ben mirata e ben ponderata allo stesso tempo però non è una strategia che è adatta per tutti i clienti certo e quindi apriti alle soluzioni diciamo che Proxmos nell'on-premises ha fatto sicuramente fuoco fuoco e fiamme Microsoft come al solito dorme Nutanix ha creato una campagna marketing bella aggressiva però sempre in casa Microsoft la soluzione non non risiede nell'on-premises ma risiede nel cloud esatto allora diciamo che Microsoft può porre secondo me sul tavolo tre alternative interessanti quella che parleremo in particolare e di cui parleremo particolarmente stasera che è Azure VMware Solution che fondamentalmente che cos'è Azure VMware Solution è la possibilità di attivare all'interno dei data center Azure di Microsoft degli host dedicati per il cliente all'interno delle quali vengono inattivata un'infrastruttura VMware ok quindi fondamentalmente è un servizio progettato realizzato e anche supportato direttamente da Microsoft chiaramente approvato poi da VMware che consente proprio ai clienti di utilizzare un'infrastruttura VMware ma che viene fisicamente ospitata all'interno di data center Microsoft ha determinate caratteristiche che magari dopo andremo ad approfondire però fondamentalmente non è altro che un cloud privato di VMware in tutte per tutti in modalità software defined center ok però che gira in ambiente Microsoft Azure questa è una prima possibilità è una possibilità che va bene per tutti no ci sono scenari specifici che possono indirizzare possono essere indirizzati mediante questa soluzione anche questo dopo lo ne parleremo dopo ma è importante anche specificare che non è l'unica possibilità che offre Microsoft da questo punto di vista perché qualora uno decidesse di mantenere un premises i propri workload sicuramente un'ottima soluzione potrebbe essere Azure Stack ACI abbiamo parlato ne continueremo a parlare tantissimo di questa soluzione però sappiamo che ha caratteristiche ben precise che può e io ho tanti clienti che stanno facendo questo cambio che passano da infrastruttura on premises basata su VMware ad Azure Stack ACI poi c'è anche un'altra possibilità che è la terza che vedo come possibile strategia alternativa che può mettere in campo Microsoft che è quella di intraprendere un percorso un pochino più articolato se vogliamo però di migrazione anche di modernizzazione dei propri workload migrando magari le macchine virtuali su infrastruttura Azure ma tramite IaaS piuttosto che utilizzando delle soluzioni PaaS quindi anche qui possiamo davvero avere diverse possibilità questa sera abbiamo detto che parliamo un pochino di più e approfondiamo un po' il tema invece di Azure VMware Solution ok quindi intanto l'hai già spiegato esatto lo rispieghiamo è una soluzione un ambiente VMware totale completo che è in Azure esatto è fondamentalmente un private cloud che comprende che cosa fondamentalmente dei server bare metal dedicati per il cliente specifico quindi non sono condivisi che vengono forniti con hypervisor VMware SXI un vCenter server per la gestione di questo ambiente e anche della vSAN e tutta la parte di vSAN con il data store per le macchine virtuali e tutta la parte di NSXT per andare a creare un ambiente software defined networking per le macchine virtuali e anche VMware HCX per diciamo così garantire una mobilità dei workload all'interno della propria infrastruttura ok quindi fondamentalmente è da vedere come una soluzione che si posiziona con l'idea di andare in continuità con quello che sia già un premises con i workload di VMware ma al tutto spostato all'interno dell'infrastruttura cloud chiaramente ci sono diverse possibilità con diversi scenari che possono essere contemplati però qui vale la pena secondo me fare una precisazione importante e magari facciamo anche uno spoiler ma in realtà l'ha già fatto Mike su un evento pubblico quindi possiamo permetterci anche di farlo anche noi adesso diciamo così c'è un una specifica ben importante cioè il numero minimo di nodi per attivare Azure VMware Solution è 3 ok tra l'altro si tratta di nodi anche ben carrozzati quindi è evidente che anche i costi della soluzione non si prestano bene per realtà piccole oppure per realtà che hanno un numero ridotto di macchine virtuali o di workload ma fondamentalmente si basa si parte per quelle realtà che hanno un numero importante di macchine virtuali che vogliono migrare su questo tipo di soluzione ecco perché dico che qua facciamo un appunto una precisazione perché questo è lo stato attuale nel momento si possono attivare cluster con un numero minimo di tre nodi molto ben carrozzati ma il futuro prevede chiaramente che questa limitazione con tutta probabilità andrà a svanire e Microsoft vuole estendere la possibilità anche di attivare sistemi con caratteristiche più ridotte e questo chiaramente apre la strada anche a nuovi scenari di adozione della soluzione Azure VMware Solution. Spieghiamo rapidamente anche il perché quando questa infrastruttura è nata VMware era ancora di proprietà di Dell e quindi Microsoft ha dovuto comprare hardware da Dell per avere uno stack chiamiamolo all in one tutto già bello che è fatto. Decaduto questo vincolo quindi una volta che Dell si è liberata di VMware Microsoft ha detto posso farci quello che voglio posso anche usare il piano E delle virtual machine che serve per avere la nested virtualization quindi poter fare in modo di avere un ambiente virtualizzato all'interno di macchine virtuali che sono molto molto performanti ma che mi permettono di avere anche un nodo. esatto esatto e qua chiaramente apre la possibilità davvero di tanti nuovi scenari di adozione adesso fondamentalmente quando viene utilizzato Azure VMware Solution come dicevo prima in realtà tipicamente Enterprise per indirizzare scenari di o data center migration piuttosto che anche scenari di disaster recovery perché è sicuramente avere un sito disponibile utilizzare i data center di Microsoft di Azure è sicuramente un valore aggiunto importante piuttosto che per fare magari una data center exit quindi voglio completamente dismettere il mio data center e voglio migrare su host in ambiente Microsoft Azure quindi assolutamente può essere un scenario. Ecco qua aprirei anche un'altra parentesi perché spesso parlando con i clienti quello che mi dicono è sì però Microsoft non è l'unico attore sul mercato che mette a disposizione una soluzione di questo tipo AWS ad esempio mette in campo una soluzione analoga offre la possibilità di attivare cluster VMware all'interno dei propri data center lo fa Google lo fa anche Oracle. Però è vero ma è altrettanto vero che da questo punto di vista chiaramente ogni soluzione poi ha le proprie caratteristiche, le proprie particolarità però Microsoft si può giocare determinati punti chiave a proprio favore che chiaramente può giocarsi su lei uno fra tutti è la parte di Azure Hybrid Benefit cioè uno dei principali vantaggi nel scegliere Azure VMware Solution è proprio l'adozione di Azure Hybrid Benefit cioè un programma che ti permette di utilizzare le licenze che tu già hai per Windows Server e per SQL Server con software assurance proprio per andare a ottimizzare quelli che sono i costi altro aspetto importante è che ahimè e tu Silvio lo sai bene ci sono ancora tanti clienti che hanno on premises Windows Server e SQL Server 2012 e 2012 R2 ecco un altro aspetto importante è che prendendo questi workload e portandoli su Azure VMware Solution si ha la possibilità di estendere fino a tre anni dopo la fine rispetto alla data del fine di supporto esteso che restare a ottobre lo scorso anno e continuare a ricevere degli aggiornamenti senza costi aggiuntivi quindi il famoso extended security update program viene garantito senza la necessità di dover fare esborsi ulteriori di denaro poi altro aspetto importante tutta la parte integrazione con gli altri servizi Azure può sembrare una banalità ma quello che vedo è prendo i miei workload e magari inizio a migrare con una velocità molto rapida perché una delle caratteristiche è la possibilità di migrare workload molto rapidamente verso il cloud con Azure VMware Solution ma nel momento in cui sono nel cloud voglio estendere un po' quelle che sono le possibilità della mia infrastruttura e quindi l'integrazione nativa con tutta una serie di altri servizi Azure e non per ultimi quelle di intelligenza artificiale magari tramite Azure AI che chiaramente adesso Microsoft è particolarmente forte da questo punto di vista chiaramente permette di dare un valore aggiunto a questo tipo di soluzione per quanto riguarda l'integrazione magari con funzionalità di servizi di terze parti e poi c'è un tema anche di protezione del prezzo cioè dal punto di vista dell'adozione di Azure VMware Solution ci sono delle politiche di protezione dei prezzi che ti consentono di risparmiare cioè innanzitutto se sfrutto l'opzione di reserve distance mi permette questa di fissare i prezzi per il periodo che può essere da 1, 3 o 5 anni garantendo così dei costi prevedibili nel lungo termine e questo vale fino a fine di quest'anno e c'è anche un'offerta particolare dal punto di vista di Microsoft che consente di ottenere in determinate circostanze uno sconto anche pari al 20% per quanto riguarda l'acquisto delle reserve distance basate sui 5 anni quindi una serie di elementi distintivi in ambito Azure che danno un valore aggiunto a questo tipo di soluzione rispetto anche ad altri cloud pubblici che offrono comunque una soluzione in tutto e per tutto analoga certo chiaramente noi abbiamo detto che è una soluzione che non è per tutti non ancora però sdogana una serie di funzionalità avanzate credo che un altro aspetto importante da tenere in considerazione sia quello, come hai detto tu, del prezzo nel senso che sappiamo benissimo che molti clienti oggi vengono contattati da parte di VMware per ridiscutere quelle che sono le dinamiche di ingaggio per gli acquisti di licenze noi parlavamo con un nostro cliente che ha un ambiente VMware che ha detto che sono stati ricontattati a distanza di due mesi da quando avevano fatto il rinnovo per ridiscutere quelle che erano le condizioni di ingaggio perché la nuova proprietà, chiamiamola così non accettava questo tipo di trattamento quindi l'utilizzo anche di un scenario come Azure VMware Solution poi ti aiuta a dire ok, io non mi preoccupo più di quelle che sono le dinamiche da Microsoft e VMware io so soltanto che ho la cosa più importante ovvero pagare quello che devo e non avere nessun tipo di preoccupazione sì, corretto oltre a questo c'è anche un aspetto importante questa è una novità, se non sbaglio, della scorsa settimana quindi molto recente cioè fondamentalmente Microsoft e Broadcom hanno fatto un accordo tale per cui è possibile ai clienti che hanno già VMware Cloud Foundation quindi licenze VMware Cloud Foundation acquistate in modalità subscription possono prendere e usarle in modo intercambiabile tra l'ambiente on-premises e Azure VMware Solution quindi dà una flessibilità anche dal punto di vista della mobilità di questo tipo di licenze in modo tale da poter avere una buona flessibilità quindi magari chi ha già queste tipologie di licenze può comunque, e questa è una novità importante prenderle e non licenziare tutta la parte di VMware in Azure ma di trasferire questo licensing adottando appunto le licenze che ha già acquistato quindi un elemento aggiuntivo da considerare oltre a quello, chiaramente a quello che dicevi tu cioè ok, però il cliente si trova di fronte a un impatto importante spesso e volentieri da questo punto di vista quindi bisogna in qualche modo gestirlo, indirizzarlo certo parliamo velocemente di un paio di cose se sei d'accordo la gestione come gestisco il mio ambiente VMware quando c'è poi on-premises cioè scusami, quando poi l'ho portato in cloud e sono on-premises con il mio computer che devo fare cose ok, allora diciamo che Azure VMware Solution così come tante soluzioni in ambito cloud prevede un modello di responsabilità condivisa ok, che cosa significa questo? che fondamentalmente c'è ci sono determinati aspetti che sono la cui responsabilità è in carico a Microsoft ed altro è quello del cliente ok, dal mio punto di vista come lo gestisci? beh, uno dei principali vantaggi è dato dal fatto che innanzitutto la piattaforma viene mantenuta da Microsoft ok, e questo è quello che significa che anche gli aggiornamenti della piattaforma sono automatici e vengono scadenzati da parte di Microsoft con cadenza regolare questo garantisce chiaramente un aggiornamento sempre costante dell'infrastruttura e prevede gli aggiornamenti del vCenter della vSAN, dell'NXT e anche dell'hardware sottostante per quanto riguarda driver e firmware ok, quindi vengono applicati che cosa? fondamentalmente le patch di sicurezza e anche patch per la correzione di eventuali bug che dovessero emergere su questo tipo di soluzioni così anche gli aggiornamenti delle versioni principali per quanto riguarda i componenti di VMware ok, e altro aspetto importante dal punto di vista della gestione è che è inclusa all'interno della soluzione stessa anche un backup della configurazione dei componenti per quanto riguarda la parte di vCenter la parte di NXT e chiaramente anche questo è un valore aggiunto ma fondamentalmente per rispondere poi alla tua domanda come gestisco effettivamente la mia soluzione Azure VMware Solution in termini pratici fondamentalmente non cambia nulla rispetto all'ambiente on-prem perché avrò il mio vCenter il mio vCenter mi permetterà di gestire l'infrastruttura che è stata attivata all'interno del mio ambiente Azure e di conseguenza posso fare le classiche operazioni che sono abituato a fare all'interno della mia infrastruttura on-prem questo è un grosso vantaggio anche perché ed è uno dei punti di forza da tenere in considerazione nel momento in cui decido di adottare questo tipo di soluzione non devo fondamentalmente prevedere anche un percorso di formazione aggiuntivo per il mio personale interno cioè coloro che sono già abituati a lavorare su VMware si troveranno a poter rispendere le proprie competenze anche con Azure VMware Solution perché a tutti gli effetti è un ambiente VMware certo e a questo punto ti faccio un'altra domanda bello, tutto figo e come ce le porto le VM? allora, come ce le porto le VM? questo è uno dei punti diciamo chiave e soprattutto di forza di questo tipo di soluzione innanzitutto un aspetto importante da non trascurare è la parte di ibridazione del networking cioè prima di poter adottare questo tipo di soluzione devo prevedere un disegno dell'architettura di rete ben preciso che mi permette di avere una comunicazione fluida tra i miei workload on-prem che magari devono continuare ad esistere piuttosto che i client e tutto quello che risiede all'interno di Azure VMware Solution la migrazione posso farla con le tecnologie native di VMware quindi tranquillamente posso fare delle VMotion dal mio ambiente on-premises verso direttamente il mio ambiente Azure VMware Solution e addirittura posso prevedere anche l'estensione del networking in modo tale di avere fondamentalmente mantenere lo stesso indirizzamento IP che cosa comporta questo? beh innanzitutto che dal punto di vista degli applicativi la migrazione è pressoché in dolore io spesso negli eventi faccio vedere una demo dove si fa questa migrazione della macchina virtuale mantenendo l'indirizzamento IP e durante la migrazione viene mantenuto attivo il classico ping per vedere diciamo così la comunicazione e perde a malapena un pacchetto nel momento in cui fa lo switch dall'ambiente on-premises verso Azure VMware Solution quindi questo è un altro dei grandi punti di forza della soluzione cioè ci permette di migrare davvero un numero importante di macchine virtuali dall'ambiente on-premises verso Azure VMware Solution con soluzioni native di VMware e mantenendo anche direttamente lo stesso indirizzamento IP per rendere il tutto più fluido e più facile Certo quindi diciamo che sicuramente è una soluzione che può essere presa in considerazione dalla fine dell'anno voto per pieno ci hanno detto che la V3 andrà online quindi sarà utilizzabile in modo più semplice per tutti non conosciamo ovviamente i prezzi non sappiamo le modalità di ingaggio non sappiamo quali saranno i limiti e quant'altro però sappiamo che c'è stato detto che la V3 così la classificano arriverà per la fine dell'anno ricordiamo che Azure VMware Solution è disponibile in Italy Nord quindi è possibile utilizzarlo anche in Italia come region quindi mi sembra assolutamente una cosa da iniziare ad abbracciare e come detto come ha spiegato Francesco ci sono poi dietro tutta una serie di hybrid benefit che vanno oltre la mera virtualizzazione che un pochettino si possono parificare quello che dà Azure Stack HCI nel controaltare Microsoft esatto quindi Francesco io ti ringrazio per essere stato oggi con noi questo video sarà disponibile prossimamente all'interno del nostro canale YouTube dove trovate i vari siti online ci fermiamo per il periodo estivo riprenderemo a settembre con tante novità chiaramente la farà da padrona Windows Server 2025 Azure Stack HCI 24H2 ci saranno tante novità che saranno come dire il pre probabilmente di Ignite dove avremo grandi annunci quindi poi con Francesco Michele tutti gli altri ragazzi della community faremo tutta una serie di eventi e non solo vedremo anche di tirare dentro il buon Daniele Grandini e quindi niente grazie a tutti per aver partecipato grazie Francesco grazie a tutti buona serata ci vediamo presto ciao 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 a tutti